buongiorno amici buongiorno fratelli buongiorno sorelle dio vi benedica vi auguro una buona domenica questo giorno questa domenica giorno del signore la bibbia chiama giorno del signore si lo so tutti i giorni sono uguali per il cristiano però sapete la domenica veniva celebrato dai primi cristiani come il primo giorno della settimana si pregava si adorava si legge le scritture si andava insomma a pregare ai culti alle riunioni bene volevo invitarvi questo giorno questa sera alle ore 18 e 30 in audio su www.radiofeditalia.it e in video su questo profilo facebook per un buon messaggio di fede per un buon messaggio di fede in un modo tale che ti puoi ricreare in un modo tale che ti puoi fortificare nella fede sarà un messaggio assolutamente biblico buongiorno sorella veronica dio ti benedica elisabetta di benedica quindi vi aspetto oggi io mi sto recando verso casa ho preso la mia macchina l'ho portata vicino casa mia perché uscendo fuori dal garage a volte poi mi ci metto le macchine davanti non posso uscire quindi quindi ho preso la mia macchina l'uscita prima così direttamente andiamo in chiesa dopo dopo un buon pranzo che facciamo ok cosa dirvi vi aspetto questa sera 18 30 in video o in audio god bless you dio vi benedica grazie 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 grazie